ciao a tutti ragazzi sono strategico google of duty e come vedete sto giocando nelle mappe nuove e purtroppo non è un gameplay è un sacco di clip messi insieme un sacco sono manco le migliori, l'ho scelto un po' così tanto per farvi vedere che le ho prese purtroppo come ho detto non c'ho avuto tempo per il gameplay perchè tutti i miei amici mi invitavano a giocare sulle mappe normali perchè ancora nessuno c'era con le nuove e quindi ho detto vabbè me le goderò domani quando tutti i miei amici ce l'avranno e quindi domani aspettatevi le nuove mappe cioè un gameplay credo o domani o domani un gameplay ne ho dovuto lasciare a mani vuote il giorno dopo che è uscito questo coso e quindi ho giocato un po' a zombie e mi è piaciuto cioè questo nuove mappe mi piace molto soprattutto la zombie sembra molto intrigante però allo stesso tempo molto difficile con le scimmie che non le vedi manco ora purtroppo ero arrivato solo al livello 7 da solo però sicuro una volta che inizierò a giocare come amici i livelli saliranno spero di arrivare solo per i 30 poiché altro poiché altro vediamo la mia mappa preferita per ora cioè ora di sicuro cambierò idea però mi sembra che o Stadium mi sembra abbastanza bellina oppure l'altra mi si chiama Berlin Wall però comunque ieri tipo mi stavo divertendo e basta come vedete qui mi mi divertivo a prendo in giro questo qui mi piasso la premur davanti aspetto che che finisci usare con la macchina schifosa e boom morto cioè ieri più o meno mi sono divertito e basta anche se ho distrutto il mio ratio come vedete stavo andando in giro col cecchino cosa non da me perché io faccio ecco col cecchino infatti come vedete tipo questa clip è lunga non so perché l'ho scelta però volevo aggiungerci qualcosa questa mappa mi piace anche questa molto però purtroppo mi piacerebbe se ehm cioè ora non so se tanta gente sa che se corri lì a destino se detenerate no se correte in quel spazio rosso morirete mi piacerebbe se tipo se c'è tipo maratona pro qualche perk non il fumo la grana fumogia però se ci avessi tipo maratona pro che corri proprio ce la fai pelo pelo sarebbe stato bello e poi che altro cioè più che altro questo video cioè ora sono le 7 e 11 del mattino io tra 15 minuti dovrei essere in classe e quindi però come ho detto non volevo lasciarvi senza nulla ora qui non so come non sono morto mi sa che vi faccio un fail no l'ho preso ehm vabbè ragazzi che vi posso dire godetevi queste piccole clip che sono già quasi finite ce ne sono 3 dopo di questa ehm ora che altro vi posso dire ok non c'è niente da dire ora il mio cervello ancora abbastanza cioè non si ancora sveglia completamente ehm quindi noi ragazzi ci si vedrà domani buona cc ciao ciao